Un percorso formativo triennale promosso dall'Associazione degli agenti di commercio di Teramo senza confini in collaborazione con l'Ateneo Teramano. È stato presentato alla Facoltà di Scienze della Comunicazione nel corso del convegno incentrato sugli ingredienti fondamentali per il futuro dell'agente di commercio. Il Rettore dell'Università ha spiegato il ruolo dell'agente di commercio, oggi più che mai è di intercettare le esigenze dei consumatori e metterle in relazione con le potenzialità dei produttori. L'Università non è solo centro di formazione, non è solo per quanto importante centro di ricerca, è anche un attore che vuole partecipare insieme a tutti gli altri protagonisti e rilanciare lo sviluppo. Degli oltre 100 iscritti alla seconda edizione del corso, più del 70% arriva da fuori Abruzzo. Il percorso è attivato nell'ambito della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Gli agenti frequenteranno gli insegnamenti classici della facoltà e in più lezioni di marketing, tecniche di vendita e diritto commerciale. I crediti da raggiungere nel corso dei tre anni sono 180, 15 gli esami complessivi. Ho detto che stanno insieme due dinamismi, l'usarci, questa rappresentanza importante degli agenti di commercio, all'università, stanno facendo un percorso di crescita insieme, si sono aperti gli uni agli altri. D'altra parte si dice sempre che gli agenti di commercio sono un po' il barometro della situazione economica. Quando li vediamo tristi, affranti e che fanno fatica a mettere sul mercato i loro prodotti, è quello il segnale che le cose, e purtroppo è così da qualche anno.